Anche un sospetto escamotage per non entrare a scuola finisce nel calderone della caccia all'ultra scatenatasi dopo la partita di domenica tra Salernitana e Nocerina. Strade chiuse, carabinieri, artificieri e vigili del fuoco in via Scarano questa mattina per il pacco trovato dal personale non docente intorno alle 7.30 vicino alla rampa per l'accesso dei diversamente abili della succursale dell'istituto alberghiero. Un foglietto con su scritto ultra legherebbe la cosa all'afferno Cerina. Alcuni hanno però riferito di aver visto già nei giorni scorsi quel volantino. Una coincidenza? Qualcuno che ha voluto approfittare del clamore per mettere in atto una sceneggiata? È molto probabile. E poco dopo le 9.30 gli artificieri dei carabinieri hanno provveduto a far brillare il pacco bomba all'interno delle pietre della ferraglia. Saranno gli inquirenti a chiarire di cosa si è trattato. Gli studenti hanno le idee già abbastanza chiare e indirettamente ammettono che è stata solo una scusa per non entrare in classe. Secondo noi è per la settimana lunga perché siamo alle 4, secondo me. Forse c'è qualcuno che si vuole ribellare. Forse è meglio che non siamo entrati. Non si può trovare un po' un dialogo con i docenti per cercare soluzioni diverse dai pacchi? No, no, no. Maggio non entrare che fare fino alle 4. Pensate che ce ne possano essere altri di pacchi nei prossimi giorni? Sì. Secondo me no. Secondo me sì. Secondo di sì? Secondo me è sempre il martedì, sempre per questa settimana. Chiediamo comunque maggiore sicurezza nell'istituto, nelle forze dell'ordine e tante altre cose. Avete provato a dialogare col prese o dirigenti? Tante altre volte. Lui ha detto sempre che riusciva a risolvere i problemi. In parte li ha risolti e altri no. Il colpaccio però non è riuscito. Intorno alle 10 le attività scolastiche sono regolarmente riprese. Personale docente e non docente e circa 20 alunni sono entrati in classe. Segnali di questo genere preoccupano e sono anche deplorevoli. Devo dire che tutta la comunità scolastica è fortemente incavolata per questo evento che segue l'altro di martedì scorso, la Creolina insomma. Noi abbiamo mandato all'autorità inquirente i filmati perché ci sono le telecamere interne. Insomma l'autorità farà il suo percorso. Un ragazzo che fa di queste o dei giovani che fanno affermazioni di questo genere evidentemente si possono soltanto scusare per i loro pensieri da adolescenti anche per la loro incapacità di sapere avere un progetto di vita e di sapere guardare al di là del naso o al di là del marinare per una giornata alla scuola. Grazie. Grazie.